Storicamente nel moto mondiale la gara di Jerez della Frontera è la prima dove i giochi cominciano effettivamente a farsi serio dopo le prime tre gare di apprendistato. Ebbene anche in questa edizione del 2024 la gara spagnola non ha riservato trattamento diverso, una gara spettacolare soprattutto alla domenica e una leadership del mondiale che poteva effettivamente allungarsi in trattato di Jorge Martín e che invece rimane fissa dove sempre con Martín in testa ma con appunto il distacco degli inseguitori che appunto va riducendosi per via di una grande caduta. Nel frattempo nella gara della domenica è imperverso, un grandissimo duello tra Bagnaia e Marquez e alla fine il Piemontese ad aggircarsi la vittoria e un grandissimo duello che rimarrà evidentemente negli annali del motociclismo moderno. In una gara di Jerez della Frontera, in un weekend sdoganato con sprint e ovviamente gara lunga la domenica che però appunto presenta condizioni differenti. Al sabato infatti abbiamo addirittura 15 cadute nell'arco di una gara di 12 giri soprattutto per via del fatto che al sabato le condizioni della pista spagnola non erano propriamente idilliache e nonostante appunto una pioggia che è arrivata soltanto il venerdì, la stessa pista di Jerez ha fatto fatica veramente ad asciugarsi. Quindi l'umidità che era rimasta evidentemente dalle precipitazioni dei giorni prima ha fatto sì che la pista non fosse probabilmente con un grip al 100%. Soprattutto in curva 6 e in curva 13 poi alla domenica avremo tanti episodi di cadute appunto per via di questo asfalto molto con poco grip. Questo asfalto con poco grip in realtà andrà a stravolgere dei risultati perché per esempio un Quartarolo che guida un cancello come la Yamaha di quest'anno si ritrova a podio poi però Quartarolo verrà penalizzato di 8 secondi e quindi ci sarà spazio per un altro outsider ovvero Daniel Pedrosa che andrà in un clamoroso podio. Pedrosa ricordo da anni fa il tester KTM e ha delle wildcard sporadiche ogni tanto eppure Pedrosa si conferma un piatto di assoluto talento e farà comunque podio. Questione però appunto del grip scarso della pista la si ritroverà ma nelle categorie inferiori in particolare in Moto2 avremo tantissime cadute per lo stesso motivo quindi di queste chiazze di umidità che appunto riducono il grip della pista di Jerez della frontera ma in particolare alla curva 13 infatti anche in Moto2 qualche risultato sorpreso soprattutto però nel midfield c'è. Tornando però invece alla classe regina e dunque alla MotoGP parliamo del grande duello che c'è stato tra i due Ducati perché da una parte abbiamo Mark Marquez che su questa pista era parito con l'idea di vincere un po' per riscattare anche il clamoroso infortunio che ha subito nel 2020 che di fatto ha spezzato un po' la sua carriera come dominatore seriale della MotoGP e comunque lo rende un pilota comunque vincente e talentuoso con le moto giuste non con la Honda Cancello che erano negli scorsi mondiali ma appunto un pilota che anche all'80% della condizione evidentemente può dire la sua non in tutte le piste ma in questo caso di Jerez sì. Pista spagnola che appunto viene conosciuta benissimo non solo da Marquez ma tutti i piloti con appunto un passo straordinario del numero 93 che però trova un avversario ancora più straordinario ovvero Francesco Bagnaglia che prima in rimonta in quarta posizione per prendere Marquez che partiva in pole si inventa un doppio sorpasso all'esterno prima della dry sack che è un sorpasso da antologia e poi l'abbiamo catturato in questo frame molto importante per questo sorpasso decisivo a tre giri dalla fine c'è un recupero di Marquez evidentemente molto furioso dopo che appunto Bartini è caduto e quindi Bagnaglia è in testa Marquez da un secondo e due di ritardo arriva di fatto attaccato agli scarichi del Piemontese arriva a un duello che dura tre quattro giri alla fine con incrociità rettoria e anche delle carenate come appunto vediamo in questo frame alla fine Bagnaglia la spunta nel modo corretto va detto in pista e si aggiudica la gara di Jerez della frontiera e Sissa in seconda posizione nel mondiale piloti MotoGP 2024 chi manca però effettivamente è Martin un Martin che era in testa con va detto un buon margine di vantaggio al netto che Bagnaglia era comunque a guardia per tentare un attacco Martin perde di fatto il davanti e appunto dice addio a prendere 25 punti Martin rimarrà fermo a quota 92 punti figlio anche delle tre gare precedenti dove effettivamente ha fatto comunque un buonissimo avvio ma appunto anziché allungare i suoi diretti seguitori quindi al secolo Bagnaglia, Bastellini, Acosta e Marquez si ritrova appunto con un vantaggio che potenzialmente è ridotto infatti adesso la classifica del mondiale è riuscita nel seguente modo Martin è sempre primo ma ha 92 punti a 75 c'è Francesco Bagnaglia che dunque vince la seconda gara su quattro in questo appuntamento mondiale e per lui suona il canto degli italiani in seconda posizione abbiamo Mark Marquez e terzo invece un redivivo Marco Bezzecchi che dopo tre gare di apprendistato con la Ducati GP23 del team per Tamina Enduro VR46 riesce comunque in un contesto più congeniale a tornare effettivamente dove li compete quindi a podio quindi grande gara per Bezzecchi che ha provato in realtà a stare con i primi due piloti ovvero Marquez e Bagnaglia ma appunto alla fine l'ha data un pochino su e ha preservato comunque un importante podio una terza posizione. È una gara di Heres che comunque stabilisce anche una volta che in questo moto mondiale le moto europee la spiegano e la fanno da padrone e infatti nelle prime dieci posizioni abbiamo Ducati, Aprilia e KTM in quest'ordine a partire da Alex Marquez in quarta posizione quindi un team Grisini che comunque con una coppia di piloti buona e solida comunque porta a caso i punti importanti per la classifica team quarta posizione per Alex Marquez miglior risultato in stagione per il fratello di Mark. In quinta posizione abbiamo Enea Bastoglini che comunque è un pilota sano sappiamo che come talento può giocarsela con i migliori non ha avuto tanti acuti quest'anno un paio di podi evidentemente in Portogallo e negli Stati Uniti ma comunque mai peggio di quinto Enea Bastoglini che comunque ha meno 5 da Bagnaglia può essere anche lui un buon candidato al titolo del mondo al netto che appunto bisognerebbe sperare al momento in un altro passo falso di Martin ma appunto il mondiale è molto lungo. Ricordiamo che il mondiale MotoGP quest'anno sarà di 22 gran premi e questo di Hertz della frontiera è soltanto il quarto. In sesta posizione abbiamo Brad Binder con una KTM che ha dovuto molto rincorrere evidentemente la Ducati. Il KTM ha steccato un clamorosamente la qualificazione del sabato ha evidentemente andato di rimonta e ha portato a casa delle buone posizioni in particolare la sesta di Binder in Spagna. È un buon viattico per il sudafricano che comunque è protagonista di un contatto molto discusso in gara sprint per il quale per me era colpevole Bagnaglia infatti nella gara sprint di fatto cade per colpa di Binder ma Binder di fatto non viene sanzionato e in questo caso io sono abbastanza in disaccordo. Settimo Fabio di Gian Antonio con la Ducati del team VR46 quindi evidentemente nelle piste congeniali il team di Valentino Rossi torna a essere un team da top 10 e non da retrovie come nelle altre gare. In ottava posizione troviamo per quanto riguarda la gara di RS Miguel Oliveira con l'apriglia del team Trackhouse Racing, un'apriglia che è diciamo regredita rispetto alle aspettative. In questo caso Trackhouse Racing è andata meglio dell'apriglia ufficiale con appunto entrambi i piloti a punti. Non arriva a punti l'apriglia ufficiale con almeno Alec Spargerò perché si ritira, va in una posizione invece Maverick Vignales che dalle stelle di Austin, Texas passa un po' alle stalle della gara di RS della frontiera con una gara totalmente anonima. Chiude la top 10 Pedro Acosta che è il vero talento generazionale di questa MotoGP, ha praticamente neanche vent'anni, ha già fatto dei podi in classe regina con una moto inferiore cioè la Gas Gas che di fatto è una KTM ma comunque una KTM clienti che batte sonoramente nella maggioranza dei casi la KTM ufficiale. Fa rendere l'idea di come questo effettivamente possa segnare un talento generazionale e come possa essere un futuro campione del mondo come lo è stato in Moto2 e in Moto3 in passato. Grande gara di Acosta che comunque ottiene anche un podio importante nella gara sprint dietro appunto a Martine e dietro anche a Daniel Pedrosa che ovviamente va insegnato del titolo di Rider of the Saturday. Perché appunto abbiamo avuto due gare sprint e gara della domenica, Pedrosa ovviamente lo sappiamo, tester KTM 38 anni, pilota dal talento purissimo che però ha vinto molto meno di quanto avrebbe meritato per via dei grossi infortuni. Pedrosa comunque dimostra che nelle condizioni giuste da libero di testa riesce a fare evidentemente delle grandissime gare. Certo fortunato anche per la prevenzione di Quartarò ma comunque un podio a 38 anni per una wildcard di certo si deve assolutamente ricordare che siccome bisogna dare il rider del giorno della domenica a Francesco Bagnaia perché aver vinto un duello con questo Marquez che era indemoniato per vincere dà l'idea di come anche quest'anno Bagnaia mentalmente sia sul pezzo e possa essere un avversario credibile per Martine anche in questo caso. Bagnaia ricordiamo è bicampione regnante di categoria e ovviamente è lui il favorito per vincere il mondiale Tukur. Martine ha gli sprazzi di talento che può evidentemente essere ingiocabili in alcune gare ma Bagnaia è più costante. Quindi ancora una volta sarà una bella lotta che durerà per 24 gran premi e appunto col mondiale che si spera si possa concludere direttamente l'ultima gara a Valencia per quanto riguarda novembre. È una MotoGP che appunto ancora una volta vede le moto europee dominanti, le moto giapponesi fanno oltremodo fatica. Basti pensare che è vero che abbiamo avuto delle cadute là davanti, vedi per esempio Alessio Spargaro, vedi per esempio Pedrosa, Miller e quant'altro. Però appunto la prima moto ufficiale in generale giapponese è la Honda di Mir dodicesima e se non ci fosse passare tutte queste cadute evidentemente da davanti i vari Quartararo, Marini, Rins e chi più ne ha più ne metta avrebbero fatto punti zero con moto che fino a pochi anni fa dominavano in lungo e in largo. La Yamaha ci ricordiamo con i mondiali di Rossi e anche più recentemente di Quartararo nel mondiale 2021 la Honda con Marquez faceva quello che voleva, è andato via Marquez eppure piloti buoni come Mir e Marini fanno veramente tanta tanta fatica. Luca Marini addirittura è ultimo nel mondiale con zero punti su quattro gare con la Honda Cancello, qualcosa di clamoroso. Pensiamo che Marini con la Ducati del team VR46 faceva prime 5-10 posizioni con assoluta costanza. Questo era il recap della MotoGP, passiamo velocemente alla Moto2 e alla Moto3, una classe intermedia che vede un nuovo leader del mondiale che per la prima volta dopo 18 anni è uno statunitense perché Joe Roberts è il primo americano ai tempi di Nicky Hayden nel 2006 a vincere o a meglio a essere leader di un campionato mondiale in una qualunque categoria del moto mondiale. Evidentemente Joe Roberts però non ha il passo per battere Fermin Aldeguer che era l'uomo da battere per questa Moto2 almeno in toto per quanto riguarda il mondiale. Lui era anche Erez della Frontera, Fermin Aldeguer dopo le grandi vittorie consecutive dello Scorsone nel mondiale vinto da Costa torna a vincere in casa e lo fa appunto Erez della Frontera con una grandissima gara di fatto dominata. Per Aldeguer è la terza posizione assoluta in questo mondiale e per lui suona la marcia reale appunto davanti a Joe Roberts che al terzo podio consecutivo si aggiudica la legge del mondiale in un mondiale Moto2 veramente tanto equilibrato. Va detto che in questa gara della Moto2 di Erez della Frontera i primi quattro classificati sono i primi quattro del campionato del mondo perché appunto primo Fermin Aldeguer, secondo Joe Roberts, leader del mondiale, terzo Manuel Gonzalez che quando è passato in Grisini è riuscito a fare il salto di qualità e Gonzalez campionato del mondo della Super Sport 300 è quarto assoluto in questo mondiale e quarto in gara ma secondo assoluto nel mondiale. Sergio Garcia che ha cambiato squadra e è arrivato nel team MT Helmets della Bosco Scuro e era leader del mondiale fino alla gara di Erez dopo la vittoria di Austin Texas ma appunto in questo momento Garcia è dietro di 5 punti a meno 10 è Fermin Aldeguer che secondo me è il vero favorito per questo mondiale. Insomma potrebbe essere un duello a tre tra Roberts Garcia e Aldeguer per un mondiale Moto2 dove evidentemente anche qui gli italiani fanno parecchia fatica il migliore in questo momento è Vietti in classifica assoluta del campionato del mondo del nono così come non nel piazzamento in gara Tony Albolino ha fatto un avvio molto faticoso e racimola un settimo posto Dennis Foggia invece si ritira c'era un'altra wildcard Matteo Ferrari ma la Moto2 di base ha tre piloti regolari italiani. Ne ha 5 invece la Moto3 ma anche qui gli italiani non sono un fattore siamo dei comunque buoni piloti per quanto riguarda la top 10 con in particolare Stefano Nepa e Nicola Carraro. Nicola Carraro l'abbiamo accusato nella carriera ma appunto niente da fare per le gare di vertice dove in realtà poteva vincere Davide Alonso che però cade al primo giro di curva 13 e racimola solo undicesima posizione nella gara vinta dall'olandese Colin Weyer dunque anche nel modo mondiale. In Moto3 sono Edwin Helmus l'innazionale olandese in una gara della Moto3 va detto parecchio selettiva rispetto della categoria entrante che è molto leggera e quindi predilige evidentemente duelli di gruppo anche a decine di piloti. Alla fine Weyer vince la terza gara in carriera davanti a David Munoz pilota del team BUE che fa molto bene con anche una quinta posizione di Joel Kelso pilota australiano. In terza posizione abbiamo invece Ivan Ortolà che l'anno scorso invece vinse Ortolà e quarto assoluto in un mondiale che però al momento vede due principali candidati a vincere questo mondiale. Daniel Olgado il leader con il Red Bull Team Tech 3 su Gas Gas è sempre primo ma con un vantaggio che si è addirittura incrementato rispetto a Davide Alonso. Davide Alonso invece corre con CF Moto team cinese con appunto di fatto una grande serie di due vittorie in tre gare. Prima di ovviamente Rezzo della Frontera potevano essere tre in quattro gare e quindi parleremo di un mondiale diverso. Alonso del Gado sono i più candidati fondamentali per vincere questo mondiale Mototrek che comunque mi auguro sia combattuto esattamente come lo è stato negli anni passati. Questo in generale invece è il recap della MotoGP il primo della stagione visto che per vari motivi tra Superbike e vlog live e altre cose ho dato priorità a Formula 1 e Superbike. Questo appunto primo video del canale di Racing Podcast per la MotoGP. Per questo appuntamento alle Manta due settimane. Fatemi sapere cosa mi piace di questa gara di Rezzi in particolare per quanto riguarda la classe regina che lascia questa classifica con Martin sempre a 92 punti ma Bagnaia e Bastiani dietro spingono per arrivare in testa a questo campionato nel mondo. Il saluto da parte di Matthew Thorgaard. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.